Nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di serie di Girone F, il Pineto pareggia per 1-1 contro l'Alma Juventus Fano in vantaggio i biancazzurri con il rigore di Romano. Nella seconda frazione a tempo scaduto, Vavassori pareggia per i suoi. Dopo 120 secondi, subito occasione per il Granata, variale a 2x2 con Mercorelli. Trova una grande risposta dell'estremo di casa, sempre il numero 7, sempre un duello tutto personale con il numero 1. Spiora nuovamente lo 0-1, qualche giro di lancette dopo. Al quarto d'ora, primo episodio spartiacque del match del Mastro, conclude Mané, colpisce con la mano e calce di rigore. Dal dischetto Romano, freddo non sbaglia, al venticinquesimo ancora i biancazzurri vanno vicini al raddoppio per ben due volte. Milinkleri viene murato da Mané, che si fa perdonare così l'errore, che è costato la massima punizione. A 10 dal termine l'Alma Juventus Fano va a un passo dal pari. Prima Casolla e poi Zanolla ci incischiano un po' troppo nell'area avversaria e non riescono a bucare la retroguardia. Nella ripresa sono gli ospiti a provare a impattare il match. Zanni dal limite conclude alto. La risposta a Terramana porta la firma di Milinkleri, azione autarchica del numero 10 che perde l'attimo. e Cistina una buona sortita. Dalla parte opposta, Arcobaleno di Variale che si spegne solo sul palo a Mercorelli battuto. Il match equilibrato è pieno di agonismo, ma avulso di azioni degne di nota. Nel finale Barlafante ne è entrato sgusci in aria e concludezza. Festa sblocca. Nel terzo dei cinque minuti di recupero, Vavasori sale in cielo e pareggia per le aquile. Non succede più nulla. Pineto e Fano si dividono la posta in palio per 1-1.